La consulta comunale di Battipaia per i problemi dei disabili si è riunita insieme ai tecnici comunali e ai rappresentanti delle organizzazioni di categoria dei commercianti. Stiamo predisponendo, afferma la consigliera comunale di Conceciglia, Rossella Speranza, una lettera invito a tutti i commercianti per chiedergli di rendere l'accesso ai negozi facile per tutti, dando tutti i parametri per la misura di una pedana norma rispetto alle altezze dei gradini. I rappresentanti dei commercianti intervenuti, Massimo Sorvillo e Franco Rusto, si sono resi disponibili e collaborativi. Hanno anche proposto soluzioni semplici e anche utili per sensibilizzare la cittadinanza. Nel corso della riunione si è discusso della possibilità di utilizzare una pedana removibile. La scelta del colore, del logo e lo slogan per le vetrofanie, che dovranno permettere al disabile di riconoscere i luoghi in cui gli verrà facilitato l'accesso, sarà affidata a un concorso che vedrà protagoniste le scuole.